Come vi è? Come vi è? Come vi è? Come vi è? Voi non mi sentate a colina. Io sennò mi metto gli stadi. Voi fate spazio Mario. Non ci vede. Non ci vede. Aspetta. Non lo facciamo, non lo facciamo. Ecco va. Il mazzanino per l'avviso. Occi. E' la storia. Non lo facciamo, non lo facciamo. Io non lo facciamo. Chi è? E allora perchè non andiamo. cuestión di te. Ma ci face, non è cosa che vuoi? Cosa? Che agora? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi facciamo passi avanti. Grazie a tutti. Signora Longheri. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Again, 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 again. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.